Ciao, ciao! Vogliamo i gattini e loro vogliono metterli già perché li stanno riempiendo di graffi. Allora, i gattini sono arrivati dall'associazione perciò dobbiamo lavarli perché possono avere un po' di pulci così, però i gattini non piacciono tanto acqua. E abbiamo... Oh, guarda! Cos'è? Guarda che bello piccolino! Quando sono abituati da piccoli possono anche amare l'acqua. Perciò noi... Shampoo, shampoo, devi! Shampoo! Guarda, anche Sean vuole lavare i nostri gattini! Dopo! Adesso devo... Consider... Bravi dei miei gattini! Gattini, gattini! Dopo diventano brave come Sean che li piacerebbe andare al lavoro a stare. E le ru umano... These app sampler nella mano aveva. E poi raggiunge i nostri gattini. Sher Exchange Allora, sei come papà con due bambini, gemelli. Lui asciuga lui, vedi? Di tutti, anche mia chiglia deve fare maniera. Stiamo lavando in Grecia, che bella! Adesso sarà caso più difficile, che anche adorare acqua e scioglie. Chi vuole lavare Isabella? No, no. Papà? Mi vuole una secca della perfezione. Dopo le laviamo dai! Chi fa bagno tutti i giorni al lago, e dopo fa le scuole per fare maniera dentro. Ora come sei pulito! Gemelli è super morbidoso, senti? Che Gemelli è morbidoso! Tocca! Peccato che non lo potete annusare perché è super profumato. Per fortuna che sei bello pulito. Puli e sì, anche lui è pulito, solo che lui non vuole salire sul divano. Perché è bravo, bravo. Tu sei una festa! Quindi ho un paese che sale sul divano! E guancione! E guarda guancione! Amm... E' dolmette bello! Che buono giorni di pesca! Di pesca! Ciao ciao dal canale Nikita! Mettete il like! Iscrivetevi al canale Nikita! Ciao ciao! E voglio oggi che il pisconi si mette un colore di pesca! Ciao ciao!